In tema di sport, a mio avviso, è ciò che un ente pubblico come la Regione Liguria si deve prefiggere, deve essere appunto la sua mission, è quella di tutelare lo sport più puro, lo sport etico, lo sport che, insomma, secondo i principi di Coubertin è quello di partecipare e non di vincere, lo sport come socialità può fare amicizia, lo sport anche come tolleranza, purtroppo alcuni eventi dei maggiori sport professionistici non hanno dato sicuramente questo insegnamento ai nostri ragazzi, sport vittima di doping, vittima di calcio scommesso, vittima di razzismo, di esclusione. Ecco, io penso che un ente come la Regione Liguria debba appunto vedere lo sport in qualità di gioco, di movimento, nel senso che lo sport è visto come stare insieme, come amicizia, come confrontarsi. Su un campo da calcio non importa chi è ricco, chi è povero, chi ha uno stato sociale più importante di un altro, il tipo di lavoro, i genitori, il sesso, la razza, su un campo da calcio si è tutti amici, si festeggia tutti per un gol e quindi è questo lo sport che va tutelato.